Al di sopra di tutto ho sentito la squadra durante la settimana con una presenza positiva e un senso di consapevolezza tutto tondo sia per quanto riguarda il nostro momento in assoluto sia per quanto riguarda la nostra settimana nello specifico. C'è grande maturità in questo mio sentire i ragazzi, c'è grande presenza da parte loro nel vivere questo momento e c'è grande consapevolezza nel prendere le informazioni attraverso le quali dovremo preparare la partita di domenica prossima. Contro una squadra che gioca una pallacanestro non convenzionale nelle abitudini della nostra Lega una pallacanestro però che ha fatto sì che lo scorso anno, a mio modo di vedere, siano state la sorpresa del campionato e che quest'anno abbiano iniziato meglio dello scorso anno giocando una pallacanestro simile con giocatori differenti ma probabilmente più pronti ad assorbire la filosofia rispetto alla formazione dello scorso anno e questo lo dicono i risultati. Atletismo, impatto a rimbalzo offensivo straordinario, i migliori della nostra Lega un atletismo che esplode a tutto campo, un atletismo che permette loro di giocare una difesa molto aggressiva variando scelte tattiche in corso della stessa partita noi dovremmo essere tough, intendo duri nel tenere gli uno contro uno assolutamente, di tutti dovremmo essere duri per vincere la battaglia a rimbalzi difensivi cioè avere il controllo dei nostri rimbalzi e dovremmo essere smart, cioè intelligenti uno nel riempire l'aria non dando spazi attraverso i quali essere aggressivi nell'uno contro uno a nessun tipo di giocatore avversario dovremmo essere smart a reagire nelle modalità giuste contro le loro difese dovremmo essere intelligenti a riconoscere le caratteristiche dei singoli giocatori contro cui andiamo a giocare gli uno contro uno hanno tre giocatori sul perimetro di uno contro uno vero e efficace il riferimento principale è Cianca e Menalo Nikolic è un giocatore che può attaccare l'area dei due punti soprattutto di paleggio rest e tiro a riconoscere le loro caratteristiche opposte a De Fabrizis e a Pieric che sono specialisti assoluti con Pieric che ha una licenza particolare dal punto di vista offensivo dobbiamo essere intelligenti a riconoscere le differenti caratteristiche tra Imbaieie e Pieric che si alterna nella posizione del 4 e quindi una partita sicuramente che presenta delle complessità che sono nell'anomalia proprio della tipologia di palacanestro che Roseto gioca che risiedono nelle differenti caratteristiche dei singoli giocatori questo tipo di criticità va superata da una presenza mentale con un livello di presenza e attenzione straordinario massima e totale fiducia per quanto mi riguarda nei confronti della squadra perché il sentire della settimana mi porta ad essere veramente di grande fiducia perché i ragazzi hanno dimostrato di esserci